Un primo maggio che pensi alle vittime sul lavoro. La giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la festa dei lavoratori forniscono all'Anmil l'occasione per sollevare un tema purtroppo sempre di grande attualità. Sono 2292 gli incidenti sul lavoro tra gennaio e febbraio 2023 in Friuli Venezia Giulia, 549 in provincia di Pordenone, 916 per Udine, 514 per Trieste e 313 per Gorizia. Ciò che preoccupa è l'incremento anche delle malattie professionali, del 28,7% in Italia, del 23,4% in Friuli Venezia Giulia, a Trieste l'aumento più vistoso, pari al 44,4%, mentre la provincia di Pordenone è l'unica che presenta un calo, meno 6,1%. Per Amedeo Boz, presidente dell'Anmil di Pordenone e consigliere nazionale, i dati sul fenomeno infortunistico sono preoccupanti e per questo si deve tornare a parlare con serietà anche della tutela delle vittime e delle loro famiglie. Chiediamo alla Regione e ai rappresentanti parlamentari del Friuli Venezia Giulia di poter prendere decisioni urgenti in merito, convocando un tavolo su cui dovrà sedere anche l'Anmil per l'esperienza diretta in anni di attività nelle aziende e nelle scuole.